e voglio sentire esplodere per tutte le persone che erano qua sul palco oggi sulle mani supportate la scena per il rap che finché ancora c'è qualche vecchio che lo fa bene magari sopravvive perché Cianci si va subito all'attacco DJ Crime facci sentire che c'è qualche stagione da dire che non è stata una stagione Le aziende i courage, la rofanna dietro gymnasio i nostri animali nell'us оказisciando 1 cm, il 26 cm il soggetto non si c'è ancora una fornita e nel due chance di ruotare, lo stesso, il tipo di successe ma è senza fare possiamo tener sbagliare rispetto sul� inしました proprio i puniti ma sono facili delle famariche solide, ma sono male solite, queste donne da essere un barche che fragrantone mi attrava il pezzo progetto un motivo Grazie a tutti. Grazie a tutti.